Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovissimo video Buongiorno a tutti i miei iscritti, li ringrazio vivamente perché commentano sempre, lasciano sempre il mi piace E buongiorno a tutte le persone che stanno vedendo questo video per la prima volta e si vogliono iscrivervi Mi raccomando, iscrivetevi giù e premete la campanella Così da rimanere sempre connessi ad ogni nuovo video Oggi voglio parlarvi di un rimedio semplice e veloce da fare Me l'ha tramandato mia nonna e lo voglio condividere con voi Non sono un medico, non sono uno specialista, ma voglio condividere le mie esperienze Condividete, fatelo sapere ai vostri amici, provate questi medi perché sono naturali e non hanno alcun effetto collaterale Siccome in questo periodo viviamo in un cambio di stagione, quindi passiamo dall'estate all'autunno Voglio darvi alcuni consigli di mangiare molta frutta di stagione e molti ortaggi di stagione Perché contengono molte vitamine, tra la vitamina D, la vitamina B1, B12 Non sono qui ad allengarvi tutte le vitamine perché fanno bene Fanno bene alle vostre ossa, fanno bene ai vostri muscoli e maggiormente fa bene alla vostra testa Ora, passiamo al tutorial Oggi sono qui per farvi vedere questo fantastico tutorial contro l'emicrania Di cosa abbiamo bisogno secondo voi? Abbiamo bisogno di queste due fette di limone Tagliate a rondella in questa maniera Le andiamo ad applicare sulle tempie In questa maniera E se avete delle bente o un fazzoletto Così da fissarle Una volta fissate i limoni sulle tempie Ci allunghiamo sul divano per circa mezz'ora, 45 minuti La nostra emicrania si allieverà in maniera copiosa E di tantissimo aiuto al nostro corpo Mi raccomando amici, se questo video vi è piaciuto E' interessante, lasciate un bel like, condividete e commentate Fatemi sapere se voi avete altri rimedi validi Scrivetelo nei commenti Così ci scambiamo un po' dei rimedi Ci scambiamo delle opinioni Ci scambiamo dei commenti E quindi va bene così Così tutti possono vedere i rimedi che fanno anche altre persone A meno confrontarci Vediamo un po' Ok? Grazie a tutti amici E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao